signori madame web fin del 2024 dell'universo spider per marvel ma più che altro sembra un modo di lanciare una serie tv io vedo così però sicuramente almeno da come da quello che ho visto io non dovrebbero fare una serie o un segue perché non è proprio niente di che appena sufficiente si capisce poco niente perché sono andato a leggere i poteri di questa madame web perché non si capiva niente allora le cose sono state un po più chiare però non è che sia sto gran film onestamente però basta così un saluto a tutti se volete iscrivetevi al canale se volete lasciato like ciao